Buongiorno a tutti, oggi abbiamo esagerato, ho preso una valtellina con bresaola e funghetti con l'aggiunta gigionesca che diventa una valtellinese napoletana tedesca tutto assieme che è da libidine quei fiocchi, poi hanno abbondato anche con le patatine infatti non riesco neanche a farvi lo spazio per vedere comunque qua c'è la bresaolina e in bresaola vuoi fare un tiro poi sotto ci sono anche i funghetti, i musteroni, i gamberetti, guardate il gambero che spunta un gambero, un gamberetto che spunta comunque una pizza di grandissima libidine poi dopo dovrò pensare la seconda quale prendere, penso di prenderla molto leggera intanto ve la faccio vedere dall'alto così mi viene fame e naturalmente ci vediamo dopo per la seconda pizza Ciao